L'Amen Scuola Basca e Tarezzo vince a Siena e passa in vantaggio per 2-1 nella serie della finalissima playoff del campionato Serie C Silver. Dopo la partita di giovedì scorso, che aveva riportato la serie in parità sull'1-1, L'Amen ci teneva moltissimo a vincere la gara di Siena nell'economia della serie. Infatti questa sfida risultava particolarmente importante perché permette alla squadra retina di ottenere il primo match point per la promozione della gara che si giocherà al Pala Orlandi di Siena giovedì prossimo. Non è stato facile per l'Amen Sba visto che la Vismedri viaggiava sulle ali dell'entusiasmo dopo aver pareggiato la serie grazie alla vittoria ad Arezzo in gara 2. Il primo tempo in effetti si era concluso 33-30 in favore del costone Siena. Poi nel terzo quarto L'Amen è riuscita a ribaltare la situazione andando leggermente in vantaggio di un punto 51-50 nell'ultimo quarto però le distanze si sono allungate tanto che L'Amen Sba è riuscita a concludere sul 72-59. Adesso dunque la Sba conduce per 2-1 ora attesta al prossimo impegno che si disputerà giovedì prossimo un impegno che in caso di vittoria della formazione di Serravalli potrebbe portare l'Amen Sba alla promozione oppure in caso di sconfitta rimandare tutto alla bella che si giocherebbe al Palaestra di Arezzo.